Cari cittadini e cittadini di Augusta, un altro anno, il 2021, che ci lascia e siamo alle porte del 2022. Un anno trascorso ancora all'ombra di questa emergenza sanitaria che ha pervaso le nostre giornate, ha condizionato le nostre azioni, ha determinato le nostre scelte. Mi piace iniziare questo messaggio di augurio, di buon anno, con il ricordo di chi in questo anno non ce l'ha fatta anche a causa del Covid. E proprio da questo richiamo a chi ha lasciato i propri cari a causa del Covid deve portarci necessariamente ad avere dei comportamenti responsabili nei nostri giorni. In questi giorni è chiaro che il virus continua a diffondersi, aumenta in modo esponenziale. Non facciamoci prendere dalla paura, attuiamo comportamenti responsabili ed azioni congruenti a quelle che sono le leggi in vigore. L'appello lo faccio proprio per i giorni che vivremo, giorni di festa, il 31, l'1, gennaio, giorni in cui dobbiamo riuscire a contemperare bene le esigenze e la voglia di festeggiare, di salutare un anno e dare il benvenuto al nuovo anno con quella dell'emergenza sanitaria che viviamo. I dati dei positivi a livello nazionale, regionale e locale nella nostra città crescono repentinamente. Ma proprio quest'anno che sta per chiudersi ci fa capire, sulla base di questi dati, che l'emergenza sanitaria è condotta in una direzione positiva. I vaccini, fondamentale strumento per combattere questo virus. Se è vero, da un lato, infatti, che i positivi aumentano a gran misura, è anche vero che non c'è la stessa corrispondenza in termini di ospedalizzazione come l'anno scorso. Vi invito ad analizzare questi dati fondamentali. Il vaccino funziona. È grazie al vaccino che oggi, nonostante l'aumento dei positivi, le nostre camere intensive, i nostri ospedali, sono non pieni. A differenza del Natale precedente, a differenza del Capodanno precedente. Quindi il richiamo è quello sempre a dar seguito a questa vaccinazione, strumento fondamentale, che in questo 2021 è stata una campagna seguita sia nella nostra città, ma in tutto il pianeta, colpito da questa pandemia senza precedenti. In questi ultimi giorni stiamo vedendo questa crescita nella nostra città, soprattutto nelle fasce più giovani. E quindi un appello alla vaccinazione anche dei nostri ragazzi, proprio per tutelare sia loro, ma che tutte le famiglie, per tutelare i nostri anziani. È stato un anno particolare il 2021. Non c'è stato solo il Covid, con tutto quello che ha comportato. Abbiamo vissuto anche gli effetti del ciclone Apollo, delle alluvioni che tra il mese di ottobre e il mese di novembre hanno devastato il nostro territorio. Dei giorni pesanti, dei giorni in cui siamo stati in campo insieme alle forze dell'ordine, insieme ai volontari della protezione civile e a tutti i gruppi dei volontari. Un territorio che ha visto delle scene nuove, ma a cui dobbiamo abituarci. Delle scene che ci hanno obbligato e ci obbligano a ripensare la città e gli impatti climatici nella nostra città. Ancora oggi alcuni di quegli impatti sono visibili e abbiamo iniziato a sistemare quello che riusciamo per riportare alla naturalezza delle cose, le nostre strade, le nostre campagne e le nostre vie in generale. È stato il 2021 anche un anno importante, in chiave positiva, dato che questo termine ormai è utilizzato solo con senso negativo. Il 2021 è stato l'anno del rilancio delle attività culturali nella nostra città, l'anno della richiesta di proprietà del comune, dell'angar. È stato l'anno in cui il comune ha riavuto nelle sue proprietà i beni importanti, come la ricetta di Malta. L'anno in cui il comune ha organizzato eventi culturali come da tempo non si vedeva. È stato l'anno della stabilizzazione di tutti i dipendenti comunali. L'anno in cui il comune è stato accanto ai commercianti, agli imprenditori, in questa grave crisi nazionale che è presente attraverso la riduzione delle tasse, in alcuni casi anche attraverso l'esenzione delle tasse. È stato l'anno delle nuove assunzioni, è stato l'anno soprattutto di nuove ed importanti progettazioni che ci porteranno nel 2022 a trasformare la nostra città come una città cantiere. Stiamo lavorando tantissimo a progettare la città del futuro. Le opportunità che nascono dall'emergenza sanitaria legata al piano di resilienza, al piano di ripresa nazionale, del governo nazionale, ci daranno la possibilità di guardare e di riuscire a portare nella nostra Augusta nuove opere importanti. alla progettazione di nuove strutture, di nuovi edifici, di nuovi impianti nella nostra città. Dobbiamo guardare al 2022 con grande fiducia, con grande responsabilità, con grande coraggio. Tutto quello che stiamo vi devendo, questa emergenza sanitaria, non può permeare la nostra quotidianità di sentimenti negativi. Il 2022, così come la parte finale del 2021, è l'anno del rilancio della nostra economia. Ci sono dei dati importanti a livello nazionale che anche nel nostro territorio cominciano a sentirsi. Dobbiamo guardare a quest'anno come un anno di rilancio, di prospettiva e dobbiamo guardarlo con coraggio. Con coraggio di chi sa che questa emergenza sanitaria non è andata via negli ultimi due anni e probabilmente ci vorrà ancora del tempo per andare via. Ma questo non deve farci scoraggiare né vivere in condizioni diverse da quelle che merita il nostro tempo. L'impegno degli imprenditori, l'impegno delle forze dell'ordine, l'impegno degli studenti, l'impegno di tutti i cittadini che come comunità vanno avanti per dare un senso al cammino della nostra città. E con questo coraggio di tutti gli uomini che fino ad oggi lo hanno messo in campo ed un ringraziamento ai rappresentanti delle forze dell'ordine, delle categorie economiche, delle istituzioni civili e religiose, delle associazioni sportive, culturali, del mondo del volontariato, di tutti i miei collaboratori, di tutta la macchina amministrativa comunale. con questi ringraziamenti a tutti i cittadini che con grande spirito di comunità in questo anno ci hanno fatto sentire la vicinanza, la consapevolezza di lavorare per una città che si sente unita. Vi auguro un felice fine anno e soprattutto uno splendido anno nuovo, un anno ricco di soddisfazioni, di raggiungimenti di obiettivi personali con la consapevolezza che una città migliore nasce da buoni comportamenti di ciascuno di noi e dalla sommatoria di questi comportamenti virtuosi di ognuno di noi sono sicuro che la nostra città trarrà grossi benefici. Buon anno Augusta, buon futuro a tutti quanti. Grazie a tutti.